Senatore Crucioli, sul Green Pass. Oggi centinaia di migliaia di lavoratori con più di 50 anni non potranno andare a lavorare e saranno lasciati senza stipendio. Si aggiungono alle centinaia di migliaia di lavoratori del comparto sanitario, della scuola e della sicurezza che già da mesi non possono lavorare, sono sospesi del lavoro e sono senza stipendio. Inoltre oggi anche dei nostri colleghi, sia qui al Senato che alla Camera, come tanti altri lavoratori, non possono esercitare le loro funzioni. Mi riferisco in particolare alla Camera, a Pino Cabras, al nostro collega di alternativa, ma qui al Senato altri due colleghi che voi conoscete benissimo, Emanuele Dessi e Mario Gianrussi, che oggi non sono potuti entrare. Ecco, io di questo vi voglio parlare, vi voglio invitare, vi voglio far riflettere su questo. Oggi l'intero Paese è meno libero e questo Parlamento è sicuramente impoverito. perché non avere qui oggi, per un provvedimento governativo ancora non convertito, il divieto ad alcuni parlamentari di mettere piede qua e far valere il loro punto di vista, impoverisce la democrazia di tutta Italia, priva di rappresentanza a una parte del Paese e priva tutti noi di un punto di vista che potrebbe essere utile per prendere le decisioni giuste. Ed è per questo che io vi dico, vi invito a riflettere e vi dico che il sottoscritto, insieme a tutti i colleghi della componente del Ministro di Opposizione, faremo tutto ciò che è possibile per far venire meno queste norme liberticide, queste norme che dividono il Paese, lo impoveriscono e non non passerà giorno senza che noi vi ricorderemo tutto questo. Grazie.